Buona serata, benvenuti su Rossini TV, in questo spazio vogliamo parlare di turismo e non solo, dei tanti progetti realizzati e ancora da realizzare ad opera della Confcommercio Pesaro Urbino, quindi abbiamo con noi questa sera il direttore Amerigo Varotti, benvenuto Amerigo. Ciao, buonasera. Di ritorno da un evento molto molto importante a livello nazionale e internazionale, stiamo parlando della borsa mediterranea del turismo archeologico che si è tenuta a Pestum, presenti il Comune di Pesaro, presente Confcommercio in prima linea per parlare di turismo e soprattutto Amerigo dell'itinerario archeologico. Sì, noi abbiamo per la seconda volta, per il secondo anno, deciso di presentare a Pestum, a questo importante evento internazionale sul turismo archeologico, la nostra proposta di itinerario archeologico nella provincia di Pesaro Urbino. Un itinerario archeologico che comprende l'offerta culturale legata all'archeologia all'interno del circuito dell'itinerario della bellezza. Per intenderci, praticamente c'è tutta la via Flaminia, Cagli, Fossombrone, Terre Roveresche, Colle al Metauro, Fano, Pesaro e poi c'è Pergola, i bronzi dorati di Pergola. Un itinerario che si amplia in ogni edizione, già stiamo pensando all'edizione 2022, visto che ci sono nuovi ingressi nel progetto itinerario della bellezza e quindi anche in questi comuni ci sono musei archeologici o scavi archeologici di cui vorremmo parlare. Un evento importante, con la regione Marche abbiamo preso uno stand alla fiera, ci sono stati molti operatori turistici marchigiani e anche della nostra provincia e con il comune di Pesaro, il vice sindaco Daniele Vimini che ha presentato in conferenza sia la nuova allestimento, la prossima riapertura del Museo archeologico Oliveriano, sia questa splendida iniziativa Pisaurum Felix che è una brochure per i bambini dove spiega la Pesaro Pisaurum romana e non solo per i bambini con i disegni di Giombetti. Una bellissima iniziativa che ha riscosso un grande successo da parte del pubblico e delle scuole presenti. Ecco, infatti mi hai detto che, mi stavi dicendo poco fa, che c'è stata una grande affluenza di persone a questa borsa mediterranea, quindi tantissima partecipazione, convention, dibattiti, anche tu stesso hai portato avanti due dibattiti. Sì, noi abbiamo presentato in conferenza questo itinerario archeologico spiegando con il supporto di video e di animazione il contenuto dell'offerta archeologica della nostra provincia, che è un'offerta molto importante se pensiamo che all'interno della nostra provincia passa alla consolare Flaminia, quindi era la strada che collegava Roma all'Adriatico, ce ne erano due, la Salaria e la Flaminia, la Salaria al sud delle Marche e la consolare Flaminia che collegava Roma a Rimini e lungo il percorso ovviamente c'è il parco di importanza fondamentale, il parco archeologico di Forum Semproni, cioè di Fossombrone, che è l'unico parco archeologico della nostra provincia, Fossombrone dove noi peraltro come Confcommercio gestiamo in convenzione con il comune, il museo archeologico. Poi c'è la Fano romana, Fano infortuna, importantissima non solo per l'arco d'Augusto e per le mura romane, tra le meglio conservate in assoluto, ma anche per la città sotterranea, la Fano sotterranea, con la storia della Basilica di Vitruvio, ma anche con il nuovo museo della Flaminia che è stato inaugurato pochi mesi fa con questi nuovi allestimenti multimediali che consentono veramente un'immersione nel periodo romano non solo per Fano ma per tutta la via Flaminia. E poi Pesaro, Pesaro ha un'importanza fondamentale dal punto di vista archeologico, se pensiamo solamente ai mosaici del Duomo oppure alla Domus di Via dell'Abbondanza, oppure gli scavi di Colombarone, quindi molto importante. Ovviamente devo dire che grande interesse sia nella conferenza che nell'incontro con il pubblico nello stand ha destato la presenza del museo dei bronzi dorati di Pergola, perché senza togliere nulla a nessuna offerta locale, i bronzi dorati di Pergola sono un unico, un unicum, non c'è un altro museo al mondo che presenta un gruppo equestre di epoca romana del primo secolo avanti Cristo, di bronzo dorato di queste dimensioni. E poi il mistero del ritrovamento, il mistero anche del non sapere chi sono i personaggi rappresentati in questo gruppo scultorio, fa sì che insomma c'è grande interesse da parte degli storici, da parte degli studiosi, ma anche da parte del... E poi per fortuna è stato valorizzato questo museo dei bronzi, no? Con molto multimediale, bellissimo, veramente, se non l'avete mai visto andatelo a vedere, perché anche qui nel nostro territorio Amerigo ci sono persone che magari non l'hanno mai visto e dovete andare assolutamente a vedere, ne abbiamo parlato anche noi su Rossini TV, abbiamo fatto proprio lo speciale d'inaugurazione perché meritava un'azione di questo genere, insomma. Sì, qualche anno fa è stata realizzata questa sala immersiva ad opera di Paco Lanciano, che è un fisico noto a livello internazionale che collabora con Piero e Alberto Angela, che ha fatto anche l'animazione del Foro di Cesare a Roma e di altre tante cose in giro per Europa. E questa sala immersiva consente con le parole, con le luci, i suoni, una narrazione straordinaria del ritrovamento esattamente 75 anni fa dei bronzi dorati e anche racconta della storia, del mistero, insomma, di questi bronzi. Quindi merita effettivamente una visita, penso per le scuole, penso per i tanti amanti della bellezza che ci sono nella nostra provincia, nella nostra regione. Andiamo a parlare di Fano, ci spostiamo a Fano adesso a Merigo perché innanzitutto l'itinerario archeologico verrà presentato anche qui nel nostro territorio, quindi il 7 dicembre a Fano. Noi chiaramente ci saremo di Rossini TV, vi daremo contezza di quanto verrà presentato così anche noi capiremo meglio in cosa consiste e scopriremo bene questo nuovo itinerario della Confcommercio. A Fano, a Merigo, insomma, in questi giorni ci sono un po' di dibattiti, di discussione in merito al turismo. È una cosa intelligente tagliare soldi al turismo? Non dico nel locale, ma in generale in tutta Italia. Noi che viviamo di bellezze, non si possono tagliare soldi da altre parti? Che cosa ne pensi? Sì, no, l'osservazione è giusta. Io adesso sono rientrato, come dicevi, da fuori e quindi mi incontrerò nelle prossime ore con l'assessore al turismo del Comune di Fano per capire cosa si sta muovendo. Quello che ho letto sulla stampa pare che ci sia stata, per quanto riguarda il bilancio del 2022, un taglio agli stanziamenti per il comparto del turismo. Per Fano, ma in generale per tutte le realtà e comunali, e regionali, e nazionali, tagliare i soldi al turismo vuol dire non avere capito l'importanza che il turismo ha per l'economia e per le nostre città. Il turismo valorizza il nostro territorio, valorizza il nostro ambiente, valorizza le nostre manifestazioni culturali, valorizza i nostri beni gastronomici, cioè è veramente un volano di sviluppo economico e sociale per il nostro paese, per i nostri comuni. Tagliare le risorse al turismo vuol dire fare un passo all'indietro, vuol dire ragionare ancora come si ragionava negli anni 60 quando si pensava che lo sviluppo economico derivasse dai capannoni. Lo sviluppo economico nel nostro paese invece deriva dalla valorizzazione di quello che noi abbiamo, del bello. Ecco perché noi abbiamo fatto il generale della bellezza, perché nel mondo l'Italia è conosciuta per la buona cucina, quindi per i nostri prodotti gastronomici e per la cultura, oltre a prodotti manifatturieri di grande qualità, del design, penso nel settore del mobile, delle cucine, penso nel settore della moda, ma cose di grande qualità dove l'innovazione e il design si sposano con la storia del nostro paese. Tagliare risorse a un settore che peraltro è in grande espansione, perché anche nel periodo triste che stiamo vivendo del Covid l'anno scorso e quest'anno abbiamo notato che appena c'è stata la possibilità di riprendere a viaggiare, di visitare il territorio, abbiamo avuto un incremento di visitatori nelle nostre città, nelle nostre spiagge, nei nostri musei e quindi va fatto un ulteriore sforzo invece per sostenere questo comparto e tutte le iniziative che consentono ai turisti italiani e stranieri di venire nelle nostre località, in un settore che forse più di tanti altri è soggetto ad una concorrenza nazionale e internazionale spietata, perché tutti hanno capito, anche chi non ha nulla, anche chi non ha nulla, come in molti paesi nel mondo, che devono puntare sul turismo, devono puntare sul benessere, devono puntare sulla qualità dell'ante offerta culturale che hanno, ecco noi che siamo in possesso, abbiamo tutto, dobbiamo insistere. Ma soprattutto in questo momento, nel periodo del Covid, gli italiani hanno riscoperto l'Italia a Merigo, quindi assolutamente gli investimenti sul turismo devono essere incentivati sempre di più, non si possono dimezzare, perché è fondamentale fare economia con il turismo, noi ce lo possiamo permettere se la organizziamo in modo corretto e intelligente, perché spesso all'estero fanno pagare un biglietto per vedere una cosa, una stupidaggine creata una settimana prima, un biglietto enormemente lo fanno pagare, poi noi che abbiamo delle bellezze meravigliose che le facciamo pagare anche molto poco, non le incentiviamo, quindi è un po' sempre questa cosa che purtroppo accade in generale in Italia. Anche perché, scusa, per fare venire i turisti non basta aprire le porte di un museo, come fa qualcuno, bisogna fare promozione, bisogna comunicare, bisogna dare le fiere, bisogna utilizzare i social, i blog, il web, bisogna fare education, bisogna fare press tour, portare la stampa specializzata. Noi, il 14 per dire, ospiterò due o tre giornalisti che collaboreranno nazionali, che collaboreranno con me per un progetto per il 2022 che si chiama l'itinerario di Giovanni Santi, padre di Raffaello, ma cerchiamo di valorizzare i luoghi dove Giovanni Santi ha lasciato le sue opere, ma nello stesso tempo dobbiamo fare una grande promozione, una grande comunicazione a livello internazionale e questo costa. Allora, se si tagliano le risorse a un settore tra i più vitali dell'economia nazionale e internazionale, perché se uno si va a leggere i dati anche dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, legge che c'è un aumento esponenziale anche per i prossimi anni, nonostante il Covid, dei flussi turistici, se tagliamo le risorse vuol dire aver fatto, diciamo, un passo indietro. Assolutamente. Per essere buoni. Allora, il 9 dicembre ci sarà un incontro molto importante, diciamo un appuntamento di fine anno della Confcommercio dove farete un'analisi di quello che è stato fatto nel 2021 e tutti i progetti del 2022. Sì, sarà un incontro riservato agli amministratori dei comuni che partecipano ai nostri progetti e anche quelli che parteciperanno il prossimo anno, quindi dall'ultima volta che ci siamo visti, che sono stato ospite della tua emittente, altri tre comuni hanno scelto di partecipare, di collaborare con Confcommercio per i progetti turistici, penso a Pecchio, San Lorenzo in campo e Cantiano e quindi con loro faremo il punto dei progetti realizzati, ma soprattutto parleremo dei progetti che, tanti per la verità, tanti progetti che abbiamo in animo di realizzare con i 16 comuni nell'anno 2022. E qui spaziamo veramente dal mare con l'itinerario del San Bartolo e della Fano Balneare, all'itinerario di Giovanni Santi, padre di Raffaello, all'itinerario del mototurismo regionale, poi dedicheremo un'attenzione particolare ai 600 anni della nascita di Federico da Montefeltro, stiamo già definendo anche alcune partnership con realtà importanti dell'Umbria, perché ovviamente Federico da Montefeltro era il Duca di Urbino, ma anche di Gubbio e quindi stiamo cercando delle collaborazioni con loro e legato ai 600 anni di Federico rifaremo una nuova edizione dell'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, perché Francesco Di Giorgio era l'architetto del Duca e anche con l'ingresso dei nuovi comuni abbiamo altre cose da raccontare, penso al palazzo degli Ubaldini di Apecchio, dove ci ha messo le mani Francesco Di Giorgio Martini e penso insomma che sarà un anno di grande spolvero, di grande iniziativa, ecco perché pensare a comuni che tagliano le risorse del turismo mi sembra una pura follia. E allora speriamo che qualcuno ascolti il tuo messaggio Amerigo, un messaggio molto importante di investire nel turismo, nella promozione e come sempre noi ringraziamo quello che fa ConfCommercio nel nostro territorio, per il nostro territorio, in tutto il mondo Amerigo. Quindi ti ringrazio, appuntamento alla prossima puntata sempre con gli approfondimenti di ConfCommercio, vi auguro e auguro a tutti voi buona serata.